La soluzione bancaria si rappresenta degli esempi significativi di quel punto di passaggio cruciale tra la rappresentazione ancora molto schematica legata al mondo bizantino senza prospettiva e con lo sfondo dorato e invece la prassi prospettica pur sia ancora molto schematica e non sistematica come avverrà invece nei secoli successivi.